Buongiorno a tutti, sono NewTabris96 ed eccoci qui con la seconda parte dell'apertura del nostro box di Eclisti Cosmica. Esatto, questo giro abbiamo letto. Oggi abbiamo i tre baby, anche se Togepi non è baby, i Pokémon incredibili. No, come? Sì che è baby. No, è base Togepi. Base Togepi. No, no, è baby. Togepi che è base. No, al cazzo. Non dirimi in casa, sono tutte e tre baby. No, Togepi è base. Vabbè, abbiamo qua i tre baby, ve lo dico io, sono baby. È un base. Ok, nove bustine con loro tre. È un base. Gli spaccaculi. È un base. Guarda. È un base. 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 La formazione degli Avengers. Sì, esatto. Direi che lui, visto che è quello più in A, no, però forse lui è Iron Man. Sì. Lui che ha lo scudo è Capitano America. Lui è incazzatissimo, direi che è Thor. Bene. Iniziamo. Aspetta. Non ricordare un cazzo di Avengers, però. Assolutamente no. Almeno il trio fondamentale degli Avengers. Qui, poi, qua. Esatto. Chip e Choc, il terzo che è morto. Chup. Chup, sì. Morto di colesterno. Troppe noccioli. Chups. Chups. Come si chiamava quello di affari di famiglia, quello ciccione? Chum. Chumlee. 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 Il terzo era lui. Chup, Chup e Chumlee. Mortissimo. C'era anche Pops. Pops. Mama, Pops. Chup. 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 Chup Qualche Gix normale che mi manca magari Tipo il Valerio Lunala con Lidia O Reshiram e Zekrom con Una lettera Come cazzo si chiama O il trio dei baby Appena sputato sulla fotocamera Chiedo scusa, loro lo vedono Schifissimo Maronna mia Volcarono per se andialola Hitler e Mussolini Ma no, adesso ci cacciano da Youtube A cazzo Giappa Questa è una Gix normale perché è liscissima Speriamo una che manca Utsman e Ala Pattinatrice Che c'è anche la full art di questa bellissima Cleferi Sfil, Natu Falpito, Changmoh Dirling, Elioptai Naganada e Gazdor Che abbiamo già Purtroppo ce l'abbiamo già Ok, prossimo pacchettone Ok Andiamo Andiamo avanti Ed abbiamo Perfetto Ok Ha problemi con i codici Stanno Perfetto Perché sono già tutti riscattati Sì, di sicuro Sì, che appena Per quello che non li vuoi mettere a fuoco Allora Silio Bishard Mimikyu Snizzle Natu Trafinch Sfil Passimian Zhangmoh E Wewile Ma questo è Wewile e Snizzle Sono la prima volta che li fanno di tipo acqua Ghiaccio Sì Quindi di solito Sono sempre di tipo buio Usano energie buio ancora Però sono tipo Però per la prima volta li hanno fatti dell'altro tipo Infatti di Snizzle Sono ghiaccio buio Questa è la prima volta che compaiono in quest'altra Nell'altra loro tipologia Procediamo Almeno nelle carte Infatti anche Snizzle Perché Snizzle era tipo acqua Acqua anche se acqua ghiaccio Deverebbe un po' differenziare Tipo ghiaccio fa schifo anche nel gioco Figurasi nelle carte Procediamo Arrivo Ecco Cosa abbiamo in questo pacchettone Non lo vediamo Non abbiamo Il codicione E l'abbiamo E l'abbiamo L'energia acciuaio Ruvidume 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 Una bella full art personaggio Una bella gold Inutile La gold è un paese che ne esca più Chiappa pokemon potenziato Robopass Torko Youpider Ipon Onix Tepic Senshu di Alola Ulpix di Alola Ciao di salve Brax and Gix Che abbiamo già Sì È la seconda Perfetto Va bene Speriamo che valga dei bei soldi Perché averne due Sì sì Tutti voi appassionati di furri Comprateci la carta Continuiamo con gli altri Perché c'è Brax Esattamente Continuiamo con i pacchettoni Sono altri quattro Il video ovviamente è demonetizzato dopo questa battuta No sono altri cinque Sono altri cinque Ed abbiamo ed abbiamo ed abbiamo Il codice one in arrivo Eccolo qua Perfetto Energia erba E poi e poi Absol Absol Lile Sì Lile Rotom Lugma Whelmer Ponyard Togedemaru Traping Gallade Reverse E golurk Perfetto Si proceda A mano qua Odice Eccolo qua Energia elettrica Ed abbiamo Rosso e blu Alleati Jolten Pangolo Onyx Tepi Sensi di Alola Snorrant Coffin Goldak E Gazzlord Domografico Perfetto Gli ultimi due pacchetti Tre Tre pacchetti Sì Perché ne vedo due io Uno si mimetizza Direi di sì Sono tre Sono tre Quanti questi tre Siamo a metà Perfetto Sì Mancano ancora due parti Energia codice Eccola qua Codice di tipo psico Igli buff Voce assonnata Codice che è base Però Chiaramente Igli buff è un baby Il Tog Pica un base Perfetto Pyron Hakamo Ibi Lashkal Simple Flabebe Sensi di Alola Snizzle Reverse E Mimikyu Ok Adesso effettivamente Le ultime due bustine Sì Adesso faccio Le due Ecco qua Codice Energia Energia erba Allora Araquanid Tro Starterix Nocra Stafel Fraulet Fantam Magnemite Floect Ebrevieri Raro normale Ok L'ultimo pacchetto Di questa seconda parte Ed abbiamo Ed abbiamo Un gazio Ecco qua il codice Perfetto Ne ho prese tre Energia buio Allora Larvesta Floet Feiglia Timepog Peeplamp Cosmog Sponica Scrabroller Flabebe E Sanflora Perfetto E questo è tutto Per la seconda parte Perfetto Allora Sono uscite Una GX Full Art E una Ovviamente Tra i miei alleati E una GX Normale Sì Perfetto Allora Con questo è tutto E noi ci vediamo Alla prossima parte Che sarà la terza Ciao Ciao